a tutti oggi prepareremo le castagne al vapore il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa gli ingredienti sono castagne sale e acqua i quantitativi ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta è importante sapere che le castagne sono state incise precedentemente e messe a bagno nell'acqua il sale per almeno un quarto d'ora andiamo a versare all'interno del boccale l'acqua il sale chiudiamo col coperchio senza il misurino andiamo a posizionare il varoma sopra chiudiamo col coperchio e le facciamo cuocere per 40 minuti temperatura varoma velocità 2 le nostre castagne sono pronte adesso andremo a impiattarle castagne al vapore grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti